www.telemolise.it Vediamo i risultati nel girone F. www.telemolise.it Ormai Boiano radiato dal campionato. Al Termoli è bastata una rete per avere la meglio sulla Vispesaro. Il Termoli torna successo in casa dopo il break con il Matelica. Lo fa battendo una diretta concorrente per la zona alta della classifica. Ha battuto il Vispesaro che si presenta al Gino Cannarsa senza il pubblico per i noti fatti di domenica scorsa contro la corregionale Isernia. Pronti via la formazione di mister Giacomaro è determinatissima in campo. Il team giallorosso si presenta senza Manzillo. Non al meglio per dolori settimanali. Al suo posto c'è la rosa in campo. Si vede già il Termoli al primo con la conclusione dalla media distanza a cui Osso si oppone subito con la presa. Cinque minuti più tardi il Termoli prova in profondità con Di Mercurio sull'out di sinistra. Il giocatore rientra in due volte e poi va alla conclusione con la sfera che va a lambire il palo e si spegne sul fondo. Preludi al gol quello che arriva al minuto numero 14. La costruzione di Palumbo, l'impostazione perfetta per Miani. L'apertura per Di Mercurio smarcato. Il tiro ad incrociare da parte del siciliano con il diagonale vincente che termina nella sua corsa in fondo al sacco. Per il gol del vantaggio della formazione giallorossa. Un gol importante per il team adriatico che riesce a scuotersi e scuotarsi di dosso ogni dubbio importante. Alla fine trova il vantaggio con Denis Di Mercurio e il suo quarto sigillo stagionale in questo campionato nazionale direttanti. Termoli con la testa ben salda sulla testa e voglioso comunque di interpretare il confronto nei migliori di modi. Minuto numero 19 quando Nicro va a regalare un pallone d'oro a Pieri che si invola. Si presenta tu per tu col suo ex compagno Patania che lo va praticamente a neutralizzare. Gli chiude lo specchio della porta e Patania riesce ad agguantare la spera. Ma ancora Termoli. Minuto numero 20 il cross perfetto dall'out da parte di Miani. Con il portiere che si lascia sfuggire il pallone e Basso che non riesce a ribadire in rete. Occasionissima per il Termoli ma l'occasione più ghiotta arriva tra i piedi dei giocatori della Vispesaro. Quasi mezz'ora ventinovesimo al Gino Cannarsa quando Pieri riesce a provare la fucilata dalla media distanza. Il pallone ribattuto dal palo. Ancora Pieri con Nicro che va a cacciare dalla porta. Un pallone per i giocatori della Vispesaro. La sfera avvarcatola in bianca per il direttore di gara e i suoi collaboratori. Il pallone era ancora in gioco in campo. Quindi non c'è rete che poi verrà però non convalidata. Però i giocatori della Vispesaro hanno chiesto il gol. Il palo di Palumbo prima della fine del primo tempo per le immagini montate da Alessandro Nardella. E così siamo scesi nella ripresa. Solo e soltanto Termoli nella seconda frazione di gioco. Diciassettesimo l'angolo è perfetto di Mandorino. La testa di Palumbo che si eleva benissimo ma non inquadra lo specchio della porta. Ancora solo e soltanto Termoli in minuto numero 20. Viene costruita l'azione sull'auto di sinistra con Di Mercurio che mette in mezzo un buon pallone. Arriva Mandorino il controllo volante. La rovesciata con la sfera deviata che termina però tra le braccia di Osso. Ancora un giro di lancette. Mandorino ancora un'occasione. Si crea lo spazio giusto sull'auto di sinistra. Rientra con il sinistro. La conclusione che Osso va a ribattere. Finale di gara. Quarantesimo il Termoli costruisce con quest'azione in profondità di Di Mercurio che cerca lo spazio. Palla per Palumbo. La sfera poi per Todino. Ancora per Palumbo. Tiro in corsa. Palla sull'esterno del palo. E la sfera che si spegne sul fondo. Vince al Gino Cannarsa il Termoli che si impone sulla Vispesaro per 1-0. L'azione del gol vittoria del Termoli sulla Vispesaro al minuto numero 15. La costruzione parte dal piede di Palumbo per Miani che si gira benissimo nell'apertura con Di Mercurio che arriva in corsa in diagonale e fa secco osso per il gol che regala la vittoria al Termoli sulla Vispesaro per 1-0. Pareggio proprio allo scadere per l'Olimpia agnonese in casa del Celano. Un Celano ormai quasi salvo incrocia il proprio destino con l'Agnonese che invece è affamata di punti e non può permettersi passi falsi. L'avvio è tattico e per vedere la prima azione dobbiamo aspettare il settimo quando Di Benedetto si gira con tempismo ma calcia alto sopra la trasversale. Celano alla finestra almeno sino al dodicesimo quando un pensiero di troppo è fatale in area molisana. Suma l'occasione e anche il bel gioco almeno per 20 minuti finché poi il solito Aquaro cerca l'Eurogoll in tuffo ma la palla incoccia sul palo. Occasionissima Celano che precede la botta di Di Lullo da fuori ma è attento Bartoletti che si distende e blocca. Quarantesimo inserimento e semigirata di Rea ma Biasella alza sopra la traversa. Pochi secondi e ancora Rea l'occasione della vita quando si ritrova il pallone fra i piedi a porta vuota. La conclusione è però approssimativa e il cuoio finisce così sulla parte inferiore della traversa. Non si schioda lo 0-0 che ci accompagna negli spogliatoi. La ripresa fatica a decollare e dobbiamo attendere il ventesimo per assistere a qualcosa di apprezzabile. Il neo entrato Troccoli viene contratto in maniera pericolosa perché il rimpallo quasi non finisce in fondo al sacco. Scampato pericolo e Marsigani che ripartono con Tarantino che carica alto. Ventiquattresimo il neo entrato Manzo si ritrova solo davanti a Biasella ma gli spara addosso e lo grazia. Passano due primi e Granaiola su punizione e testa ai riflessi dell'estremo molisano. Cresce il Celano che dopo dieci minuti trova il vantaggio. Splendida pennellata di Granaiola per la testa dell'altro mostro a Aquaro che ovviamente è letale. Bella mazzata per l'Agnonese che non sembra poter reagire e così dopo tre primi padroni di casa sfiorano il bis con un impreciso diagonale di evangelisti. Celano in parata? Sembra di sì e invece la solita zona Cesarini è di nuovo letale per i biancazzurri. Novantesimo con colpo di testa da parte di Ricamato per l'1-1 finale. E così per i biancazzurri tramonta il sogno playoff ma la salvezza ormai è in cassaforte. Netto K.O. Casalingo dell'Isernia con la Iesina si complica ancora di più la questione salvezza per i bianco celesti. Termina con un risultato pesantissimo l'incontro tra Isernia e Iesina con i bianco celesti che escono sconfitti dall'Ancellotta per 5-1. Le poche ore di allenamento sono più che mai evidenti e gli ospiti riescono a chiudere il match già nei primi 45 minuti. Veniamo alla cronaca. Il primo episodio che annotiamo è già il vantaggio ospite, assist di Rossini per Pierandrei che viene atterrato da Pepe. Il signor Cenami di Rieti indica il dischetto. A realizzare è proprio il baby Pierandrei. L'azione più interessante dell'Isernia invece nasce da palla in attivo con Panico che dal limite dell'area trova la rispinta dell'1 ospite. Al 23esimo arriva il raddoppio ospite ed è doppietta per Pierandrei che è brava ad anticipare il difensore di casa. Al 41esimo è ancora gol per gli ospiti. Ancora il numero 9 protagonista, questo classe 96 che sigla con questo bel gesto atletico la sua personale tripletta. Sul letto vantaggio della Iesina dunque si guadagnano gli spogliatoi. E con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. L'Isernia torna in campo con un piglio diverso. Preme sull'acceleratore ma le reti da recuperare sono tante e tuttavia nei metri decisivi continua a sbagliare. Al settimo minuto è calcina a sfionare l'autogol ma la palla è di poco alta. Un minuto dopo è Damizia a provarci per l'Isernia. Ma Tavori riesce a rifugiarsi in angolo. Ancora l'Isernia al dodicesimo. Ursini trova la testa di Pepe che prende il legno. Ci riprova sulla respinta ma il suo pallonetto è fuori. La risposta della Iesina arriva al 22esimo con questa bella punizione di Cardinali che si spegne in fondo al sacco per il 4-0 ospite. Al 26esimo è l'Isernia che riesce ad andare a segno con Damizia. Arrivati al 29esimo l'Isernia resta anche in 10 per il doppio giallo rimediato da Ursini. Al 38esimo ancora un'occasione per l'Isernia. Pallonetto di Damizia ma calcina riesce a salvare. Sul capovolgimento di fronte è la Iesina, non ancora pagata dal risultato, a firmare la quinta rete. Assist di Cardinali per Carnevali che batte ancora Tomarelli. Termina così l'incontro con questa brutta sconfitta dell'Isernia sul proprio campo con la quale aumenta sempre di più il timore della retrocessione. Anche se, al di là della salvezza sul campo, l'Isernia deve lavorare sulla salvezza al di fuori di esso. Atletica a Milano si è svolta la quattordicesima Swiss Gas Milano Marathon. Ben 3.547 arrivati, di cui 3.109 uomini. Terzo al traguardo il molisano Giovanni Grano della nuova Atletica Isernia che ha bloccato il crono dopo 2 ore 27 minuti e 38 secondi. Campionato d'eccellenza, tre gare alla fine. Vediamo i risultati. Alife Campatisa 2-1 Bairano Montaquila 3-2 Gioventù Dauna Benafro 1-0 Montenero Campobasso 2-3 Roccaravindola Cliternina 3-1 Roseto Fornelli 0-5 Santeliana Vastogiratti 3-3 Sesto Campano Pozzilli 3-1 In testa Campobasso già promosso in Serie D a quota 79 Gioventù Dauna 67 Sesto Campano 58 Fornelli 55 Benafro 50 Roseto 37 Gambatesa 36 Vastogirardi 34 Montaquila 31 Cliternina 29 Roccaravindola 26 Bairano Alife e Santeliana 23 Pozzilli 22 Montenero 18 Il Campobasso ha superato 3-2 il Montenero ed ha conquistato anche la matematica vittoria del campionato Il Campobasso si aggiudica per tre arreti a due la ventisesima vittoria in 27 partite e vince matematicamente il campionato di eccellenza squadra seguita anche dal solito inseparabile gruppetto di tifosi in riva all'Adriatico Passiamo alla cronaca del match al sesto è già gol del Campobasso e Mauriello ad andare al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo mentre la difesa del Montenero osserva in maniera abbastanza statica lo svolgersi dell'azione Mauriello gol 1-0 Un Campobasso con tanti uomini indisponibili vede in attacco giocare Minadeo quindi atipico questo ruolo per lui al ventitresimo la risposta del Montenero con Sapracone che mette in mezzo schiaffeggia il pallone Catenari e allontana il pericolo e proprio Minadeo al ventiseiesimo a calciare da lontano una punizione che termina alta sopra la traversa al 34esimo da Fazio che è stato uno dei migliori a Corradino che cicca il pallone davanti al portiere Recchiuti ma si trovava anche in posizione di fuorigioco nel finale al 44esimo il signor De Lucia di Sernia invalida il gol del 2-0 del Campobasso segnato da Minadeo sugli sviluppi di un fallo laterale battuto da Volpecina per il signor De Lucia c'è stata una spinta di Minadeo a Tiscia dunque 1-0 in favore del Campobasso al riposo senza recupero da parte del direttore di gara più vivacità nel corso della ripresa ma il Campobasso la fa sempre da padrona al terzo minuto punizione di Minadeo la presa in due tempi neanche troppo semplice da parte del portiere del Montenero al quarto da Fazio per Scudieri il pallone scodellato colpisce Scudieri il pallone del 2-0 colpevole anche il portiere che rimane a metà strada tra linea e uscita nel Campobasso entra Cianci per Agnello nel Montenero Bonetti a vicenda Santoro per far entrare Principe al decimo della ripresa Fazio trova un corridoio felice per Corradino che ci si intromette e va a segnare il gol del 3-0 con un pallonetto partita davvero chiusa qui al tredicesimo c'è la reazione comunque da parte dei rosso-blu locali tira al volo di Tomeo con la palla che termina a lato immobile Catenari entra Santoro per Volpecina ma la partita di quest'ultimo dura davvero pochissimo circa 3-4 minuti perché Santoro inizia ad avvertire un giramento di testa deve essere ricoverato a bordo campo e a sua volta avvicendato al suo posto entrerà Cammino al ventiquattresimo Tomeo per Principe sotto rete fallisce il neo entrato il gol del possibile 1-3 al ventinovesimo il tiro di Rossini termina alto sopra la traversa nel Montenero pezzotta per Tomeo l'altro cambio da parte di Bonetti e poi la reazione d'argoio del Montenero al trentanovesimo c'è prima un tiro di Dottavio un sinistro di poco a lato poi al quarantunesimo la punizione gol da parte di Principe bel gesto tecnico da parte del giocatore rosso-blu locale quindi 1-3 in favore del Campopasso si condensa nel minuto successivo l'ulteriore orgoglio del Montenero al quarantaduesimo pallonetto bello e gol di Dottavio che riapre dunque la vicenda ma non c'è più tempo se non per una punizione di Pezzotta al quarantasettesimo quindi il secondo minuto di recupero con la respinta di Cattenari qui sfiora il 3-3 il Montenero ma finisce comunque con la vittoria di uno stremato Campopasso che ora dunque si aggiudica matematicamente anche il campionato di eccellenza qualche giorno di riposo prima dell'altro turno il ventottesimo che si giocherà giovedì a Selvapiana senza pubblico e contro il Vairano è stata anticipata giovedì prossimo la tredicesima giornata di ritorno del campionato d'eccellenza il fischio d'inizio è previsto alle ore 16 quindi si giocherà giovedì prossimo alle ore 16 campionato di promozione dodicesima di ritorno vediamo i risultati Acli Cerce Maggiore 3 a 1 Maronea Real Termoli 3 a 0 Molise Casalnuovo 2 a 2 Vinchiaturo Roccasicura 3 a 0 Riccia Castelmauro 0 a 0 Matese Toro 6 a 1 Spinete Campodipietra 2 a 2 Torremagliano Civitanova 5 a 1 Rimandati i festeggiamenti del Riccia il Castelmauro ha bloccato il bianco-blu sullo 0 a 0 Il Riccia costruisce ben 17 occasioni da rete ma alla fine non riesce a sfondare il muro retto dal Castelmauro Riccia Castelmauro termina dunque 0 a 0 una partita dominata dal primo all'ultimo minuto dalla formazione di casa che però non trova mai la via della porta Il Riccia gioca subito bene e dal settimo crea una grande occasione con Buonanno che si gira e serve Tedeschi che tutto solo si presenta davanti a Vecchio pallonetto e palla che termina alta al decimo corner di Ponte Landolfo colpo di testa di Paolo Antonio e Vecchio in qualche modo respinge con i pugni un minuto più tardi Ponte Landolfo al centro per Tedeschi il quale serve Mancini gran tiro del centrocampista e palla che colpisce il palo al diciottesimo ancora Tedeschi se ne va via sulla sinistra cross buco di Campofredano palla per Buonanno che tutto solo prova il tiro ma la palla termina alta al ventiquattresimo tiro di Buonanno Vecchio si complica la vita la sfera arriva a Mancini contatto tra il portiere e il numero 8 di casa ma l'arbitro lascia correre al venticinquesimo Ciccotelli fugge sulla destra cross al centro colpo di testa di Desimone e il pallone non inquadra lo specchio mentre al trentottesimo Buonanno per Mancini tiro a botta sicura rimpallo e calcio d'angolo al quarantunesimo ancora il Riccia a menare le danze con palla verso Buonanno che si gira in un fazzoletto il suo diagonale con la palla che sfiora il palo mentre al quarantaduesimo c'è un episodio dubbio Tedeschi se ne va via sulla sinistra mette a sedere un difensore poi palla al centro Ciccotelli fa gol ma l'arbitro il signor Matarese di Termoli annulla per fuorigioco di quest'ultimo ultima chance del primo tempo sempre per il Riccia con questo tiro di Buonanno e di Nłoscio che salva sulla linea di porta nel secondo tempo la musica non cambia con i padroni di casa che continuano a imperversare al terzo Buonanno in becca Tedeschi il quale fa partire questo tiro cross la palla attraversa tutta la porta ma non c'è nessuno pronto a metterla dentro al ventesimo Buonanno si trova tutto solo davanti a Vecchio il tiro e il portiere con il petto gli copre lo specchio della porta poco dopo su questo calcio d'angolo Antonello Palantonio prende l'ascensore colpo di testa ma la palla colpisce in pieno la traversa dopo qualche minuto di stasi si riprende ad attaccare per la formazione di casa al trentesimo Buonanno fa la sponda per Ponte Landolfo altra grande conclusione e altra parata di Vecchio che si esalta al trentasettesimo il nuovo entrato Polzella ci prova su punizione ma Vecchio gli risponde ancora picche gli ultimi minuti vedono il Riccia ancora attaccare ma non ci sono possibilità di fare gol al quarantaduesimo Polzella prova il tiro da fuori ma lo specchio non viene preso l'ultima chance e quella più clamorosa arriva al quarantasesimo ancora un calcio d'angolo di Ponte Landolfo ancora un colpo di testa questa volta di Buonanno la palla colpisce la traversa e Vecchio si salva in qualche modo finisce così con il Riccia che non centra tre punti che sarebbero valsi in sostanza la promozione comunque giovedì si ritorna in campo trasferta a campo basso contro il campo di Pietra lì la formazione di Barometro potrebbe trovare il lascia passare per l'eccellenza un buon punto ma potevano essere tre questo è il bilancio dell'FC Molise dopo il pari interno con la vice capolista Casalnuovo anche perché per gli ospiti è stata rinviata la festa promozione al nuovo antistadio il match tra FC Molise e Casalnuovo termina sul risultato di 2 a 2 padroni di casa che nella ripresa sfruttando l'inferiorità numerica riagguantano un pareggio fondamentale per la classifica a dirigere l'incontro il signor Giuliano di Termoli primo giro di lancette sono subito i ragazzi di Giorgio a rendersi pericolosi Colella riceve palla e prova la conclusione alta sulla traversa al nono la risposta degli avversari che passano in vantaggio cross di spatola al centro per Salino che davanti lo specchio non fallisce per l'1 a 0 del Casalnuovo grande entusiasmo per la squadra che con una vittoria permetterebbe di portare a casa la promozione al trentesimo l'FC Molise ha la possibilità di pareggiare fallo in area di Palumbo su Amorosa per Giuliano e calcio di rigore dal dischetto va lo stesso numero 10 grigio rosso e sinistro parato da Franca Villa che intuisce l'angolo dopo due minuti sempre amorosa prova a farsi perdonare per il rigore fallito riceve palla dalla destra si accentra e sinistro che va di poco a lato al trentasettesimo le sorti del Casalnuovo si complicano fallo di Palumbo su Di Claudio ed espulsione per doppio giallo Pogliesi quindi in dieci uomini al quarantesimo gli ospiti però raddoppiano su un calcio di rigore fallo in ario di tromba su Mancino per il direttore di gara e calcio di rigore dal dischetto va Salino che realizza la sua doppietta personale ed il 2-0 per la sua squadra prima dell'episodio del rigore però l'FC Molise recrimina un fallo di mano dello stesso Mancino che avrebbe interrotto il gioco evitando il tiro dal dischetto termina così il primo parziale del gioco nella ripresa con le immagini di Daniele Ricciuto l'FC Molise prova subito ad accorciare le distanze al settimo con un calcio di punizione di amorosa conclusione che va di poco fuori altra occasione per i padroni di casa al quattordicesimo sempre su calcio piazzato questa volta a provarci è Di Claudio ma tiro che prende in pieno la traversa al sedicesimo il Casal Nuovo perde un altro uomo in campo fallo di De Miglio su Gianfagna e ospiti che restano in nove uomini per rosso di De Miglio per doppia munizione al ventisettesimo calcio di punizione per i grigio-rossi sconziano dal limite al centro per Cappelletti che non ci arriva di un soffio con Franca Villa che blocca al trentaduesimo l'FC Molise accorcia le distanze amorosa al centro per Di Claudio che fa fuori l'avversario e va a realizzare il gol del 2 a 1 i ragazzi di Giorgio iniziano a credere nel pareggio che non tarda ad arrivare al trentacinquesimo cross di amorosa per Gianfagna che di testa va a realizzare la rete del 2 a 2 termina così l'incontro con un pareggio che tutto sommato sta bene all'FC Molise che contro la seconda della classe si aggiudica un ponticino utile per la zona salvezza punto che sta stretto invece al Casal Nuovo che sperava nei tre punti per la matematica promozione nel campionato d'eccellenza un punto a testa nella gara salvezza tra Spinete e Campo di Pietra a questo punto del campionato un punticino per uno non fa male a nessuno oppure sì al comunale di Spinete i padroni di casa a tratti non pervenuti nel primo tempo hanno poi ritrovato carattere e che carattere nel secondo volontà e determinazione hanno colorato il vantaggio dei ragazzi di Varanese con un entusiasmo assupitosi con il rigore ma andiamo alla cronaca dopo 60 secondi il campo di Pietra pensava di chiudere già con solo questo gol la partita da fallo laterale Luca Cretella incolla il pallone al piede inrovesciata insacca la sfera lì dove Pilenza non può arrivare neanche in tuffo da qui il gruppo di Civico si chiude a difendersi mentre lo Spinete stenta a farsi notare pregno di timidezza al ventesimo l'occasione la trova Rossetti ma qui è bravo Fratangelo a incastonare tra i suoi guantoni la sfera nel secondo tempo scende in campo un altro Spinete la timidezza agonistica sembra smarrita all'undicesimo Prince ci serve Rossetti che tenta di nuovo di bugerare Fratangelo e poi ancora al ventiduesimo Rossetti fa tutto da solo e con estrema eleganza serve ancora Prince che però non trova lo specchio della porta al venticinquesimo il risultato si sblocca il giovane Minotti riporta l'equilibrio in campo su punizione di Iani Roberto Minotti di testa gonfia la rete avversaria lo Spinete continua a crederci e fa bene stavolta il gol è a firma del buon Prince che è servito magistralmente da pace non sbaglia e castiga Fratangelo e proprio mentre si lotta a denti stretti Iacovantono commette fallo su Cretella in area l'arbitro non ha dubbi al trentasettesimo dal dischetto Cretella non sbaglia archiviando così la doppietta di giornata nel secondo tempo lo spettacolo è stato assicurato al pubblico peccato soltanto che a questo punto poca chiarezza è stata resa alla classifica ci sarà ancora da sudare in un poco sia per lo Spinete sia per il Campo di Pietra una unica cosa è certa entrambe le società vogliono ancorarsi al campionato di promozione la telecronaca Spinete Campo di Pietra andrà in onda oggi su Telemolise Sport canale 112 alle 15 a 30 alle 22 e 30 inoltre andrà in onda anche Roccaravindola Cliternina alle 17 sul canale 12 di Telemolise 2 alle 20 e 30 su Telemolise Sport canale 112 basket divisione nazionale B match casalingo del Venafro che ha perso 61 a 56 con il Martina Franca divisione nazionale C trasferta Mara per Lisernia a Pozzuoli 78 a 56 il definitivo in C regionale Ripalimosani ha perso 63 a 58 sul campo del San Salvo Teramo NVC è terminata 68 a 56 il Termoli a Ortona ha perso 87 a 62 a chiudere il quadro Teramo Campo Basket 68 a 36 il finale Danza alla scuola di ballo Anna Dance si sta preparando in vista dei campionati italiani la maestra Anna Izzi prosegue le tappe di avvicinamento con gare ufficiali e non ai nostri microfoni proprio Anna Izzi siamo con la direttrice della scuola di ballo Anna Danza Anna l'esibizione al centro commerciale Monforte è una splendida vetrina per la tua scuola di ballo non credi? beh sì credo proprio di sì anche se la mia scuola è conosciutissima abbiamo fatto varie tappe anche lavorando con la redazione di Telemolise tra cui ci sono state altre esibizioni al Monforte e tra cui c'è stato un risultato bellissimo domenica 30 marzo allo stadio di Selvapiana nel campionato regionale tra cui abbiamo fatto 6 primo posto e 2 secondi ti ritieni soddisfatta di questi risultati? beh dire soddisfatta è poco sono contentissima del duro lavoro che è stato svolto in tutto quest'arco da settembre fino a marzo abbiamo avuto dei risultati eccezionali e tra cui ci aspetterà adesso il campionato italiano che si darà tra il 7 e il 13 luglio al Rimini a proposito di questi campionati come state preparando le ragazze sotto livello psicologico e fisico? allora le ragazze giustamente avranno un duro lavoro da fare sia psicologicamente sia fisicamente però tutto ciò ci porta ci porta ad una vittoria ad una conclusione a delle soddisfazioni immense anche se non ci saranno vittorie nei campionati italiani però le ragazze lavorano duramente quali sono gli obiettivi del nuovo anno accademico? nell'anno accademico ce ne sono tantissimi di obiettivi tra cui ecco adesso noi faremo anche degli stage tra cui parteciperanno anche le ragazze tutte le atlete che noi abbiamo tutte insieme compreso la mia collega Antonina Iamonaco che fa parte della scuola di balo Danziamo Insieme che lavora da me ormai da 5 anni dunque abbiamo degli obiettivi molto ben precisi tra cui ci porteranno a far crescere ancora di più le nostre scuole Pallavolo femminile di Serie B Lisenne ha vinto 3 a 1 a Battipaglia per la cadetteria maschile la Pallavolo Agnone a tre case ha perso 3 a 0 in C regionale gara 1 dei play-out ha visto la nuova Pallavolo Campobasso superare 3 a 1 il Tortoreto adesso vediamo i risultati maturati in prima categoria girone A San Niti Cerro 5 a 0 Carullo Pesche 1 a 0 Forulum Montenero 0 a 1 Macchia Colli 1 a 0 Pizzone Conca Casale 4 a 0 Real Prata Carpinone 3 a 1 San Pietro Avellana Sestolese 2 a 2 Riposato Rufre in testa Macchia 53 Real Prata 49 Sestolese 43 Carpinone 42 risultati del girone B Cerce Maggiore Ielsi 2 a 1 Fossaltese Morgia 5 a 0 Macchia Valfortore Baranello 1 a 1 Oratino Colle Danchise 1 a 1 Gildone Mirabello 3 a 0 Ripalimosani Pietramonte Corvino 2 a 1 Volturino Murgansia 2 a 1 In testa Troviamo Ripalimosani 54 Gildone 52 Pietramonte Corvino Cerce Maggiore 45 Andiamo al girone C Campobasso Calcio Santo Stefano 1 a 4 Campomarino San Giacomo 3 a 0 Endas Frentania 1 a 2 Larino Colletorto 3 a 2 Petacciatese Guglionesi 1 a 2 San Martino Quartiere Nord 2 a 0 Sporting Termoli Sant'Angelo 1 a 0 A riposato L'Ururi La classifica In testa Troviamo San Martino 56 Sporting Termoli Frentania 47 Campomarino Quartiere Nord 43 Vi ricordo L'appuntamento Con Molise A Calci Questa sera Insieme a Gianni Bruno E Tabita Morgese Parleremo Dei campionati Di serie D D'eccellenza E di promozione Con ospiti Commenti E naturalmente Vedremo anche La nostra Attesissima Moviola Molise A Calci Sempre e naturalmente Su Tele Molise Alle ore 21 E' tutto Buon pomeriggio A Calci 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 Grazie a tutti